Salve a tutti, Domenico Giordano. Con questo video voglio fare un po' il resoconto delle mie vacanze estive, non perché voglia divulgare fatti privati, ma perché sono tornato ormai da quasi tre settimane dalle vacanze, ma ancora due pensieri sono presenti nella mia testa. Uno riguardo un po' il privato, l'altro il sociale. Bene, per il privato, senza andare in dettaglio ovviamente, vivendo all'estero, tornando spesso in Italia, ogni volta che torno assaporo il piacere di stare a casa, di stare con i miei, i miei fratelli, mia sorella, nipoti, amici. E più passa il tempo, più questa vuole stare a casa aumenta. E quest'anno ho notato che non volevo uscire di casa, volevo stare con i miei a parlare, chiacchierare, lei si parlava di tante cose, dalla politica, ai libri letti, al futuro, alla chiesa, si spaziava. E quasi mia moglie mi diceva, dai usciamo pure. E anche lei ha ragione. Però ciò che voglio trasmettervi è appunto, specialmente per chi vive all'estero, di passare il maggior tempo possibile con i propri genitori. E' un principio sano, comune, non sto qui a fare rivelazioni filosofiche. Ma l'ho sentito molto forte quest'anno e quindi torno a casa con piacere e un invito così di passare il maggior tempo possibile con le persone più vicine che il nucleo familiare di origine e gli amici che poi sono rimasti. Quindi questa è una cosa che ho sentito molto e quindi voglio dirvi. La cosa sociale che mi ha fatto incazzare letteralmente, viaggiando per la Puglia, varie spiagge, altre regioni, eccetera, mi sono goduto il bellissimo mare italiano, per l'amore del sud Italia, e uno specifico pugliese. Ebbene, dopo essere stati una giornata al mare, dopo essere divertiti, rilassati, eccetera, la cosa che mi faceva imbestialire era vedere le cicche di sigarette sulla spiaggia, i tappi delle bottiglie, non le bottiglie di tappi, e qualche busta, qualche carta di palino, di focaccia lasciata lì. Ma, mi censuro da solo, ma è difficile andare in spiaggia con una busta o se l'avete dimenticata, mettevi la cicca in tasca o non fumare in spiaggia, che sono anche i bambini. E dopo che avete bevuto la giusta birra ghiacciata, che fa bene, vi portate la bottiglia, mettete il tappo sopra e buttatele insieme. Sono quelle piccole cose che fanno veramente rabbia, oltre che possono far male per i bambini che giocano in spiaggia. Quindi, andate in spiaggia con una busta in più, o quando avete fatto la spesa al supermercato, dei panini, birra, eccetera, quella busta utilizzatela per mettere la vostra immondizia. Ve lo dico perché è semplice, l'ho fatto personalmente, ogni volta che tornavo dal mare raccoglievo la mia immondizia, e in più quella vicina che rimaneva, cicche di sigarette, bottiglie di plastica, qualcosina. Quindi se ognuno di noi riuscisse a portare via dalla spiaggia, dopo aver goduto del bene pubblico della spiaggia, la propria immondizia, e quella del vicino che si è dimenticato, magari anche dicendolo, a me è capitata una ragazza che aveva tra i piedi un po' di carta stagnola, ha detto, gliela posso prendere, la metto in busta, ma guardato stupita, ma porca miseria, è un gesto semplice che abbiamo il dovere di fare. Quindi se ognuno di noi, oltre a raccogliere i propri rifiuti, prendesse la cicca del vicino, facendoglielo notare, un po' di carta, le nostre spiagge sarebbero più belle, sarebbe più piacevole andarci. Basta, queste sono le mie due considerazioni delle vacanze estive, andate benissimo, quindi parliamo sempre di più con i nostri genitori, i nostri cari fratelli, sorelle e nipoti, passiamo il maggior tempo possibile con loro, specie quando viviamo all'estero, e un po' di civiltà sulle spiagge che noi utilizziamo. Fumiamo meno se possibile, o la cicca a sigaretta nel porta cicche, o nella propria busta, dopo aver mangiato un buon panino, o bevuto una bottiglia di birra fresca, il tappo si mette sulla bottiglia e lo buttiamo al bidone a fianco. Arrivederci e a presto. Commenti, like, parolacce, tutte sotto. Grazie. Grazie.